La mia vita è stata un viaggio bellissimo, super interessante, che io ho osservato con i miei occhi, col mio sguardo. Salve, benvenuti, benvenute e benvenute a Fuori Norma, il podcast che sfida l'idea di normalità. Io sono Emanuela, la vostra host, e sono una formatrice e content creator che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche tu puoi sfidare l'idea di diversità e di normalità, questo è il podcast che fa per te. Nella puntata di oggi ho l'onore di avere come ospite Fabiana Rosa, conosciuta anche su Instagram come Azzurra Edu Kinky, che è un'educatrice consulente sessuale specializzata in sessualità atipica. E questo era l'argomento di cui pensavo di voler parlare con lei, e anche lei pensava di dover parlare con me di questo argomento, ma mentre facevo delle ricerche per informarmi meglio sulla sua persona, su quello che fa, su dove era prima che io la conoscessi, ho scoperto il suo TED Talk. E questo ha cambiato tutto, completamente. E quindi, per quanto anche io mi aspettassi di parlare di sessualità atipica con lei, la sua storia personale ha preso il centro della scena. Fabiana condivide con noi la sua storia di diagnosi errata di bipolarismo, un ricovero psichiatrico, e la scoperta di avere un'encefalite causata da un tumore. Attraverso questa sua esperienza ha dovuto affrontare lo stigma legato alle condizioni psichiatriche, e in seguito anche ha attraversato lo stigma legato alla grassezza. E ci racconta tutta questa storia di rinascita in un modo unico e fuori dai cliché, lontano da come ti aspetteresti che una storia di rinascita venga raccontata. Questa puntata è un viaggio attraverso il tema dei corpi dissidenti e anche delle etichette identitarie, oltre ad invitare ad una riflessione su come si possa utilizzare il trauma per trasformarlo in crescita personale. Prima di iniziare vi avverto che tratteremo temi sensibili come la violenza ospedaliera, il ricovero psichiatrico, l'interruzione volontaria di vita, il peso e la grassofobia. Quindi se questo non è il momento in cui affrontare questi temi, io ti invito a passare a un'altra puntata o rimandare l'ascolto a quando ti sentirai pronta, pronto, pronto ad affrontare queste questioni. Metto inoltre in descrizione del video di YouTube e nelle note dell'episodio o in tutte le piattaforme di podcast, il link al TED Talk di Fabiana, che secondo me merita di essere ascoltato, e anche a tutti i suoi account social. Prima di lasciarvi vi ricordo che Fuori Norma è un progetto indipendente e che il podcast è ideato e prodotto interamente da me, e che potete sostenere il progetto e il mio lavoro in tanti modi possibili. Prima di tutto ringrazio i primi iscritti al Fuori Norma Club su Patreon. Yeee! Siamo ancora pochissimi e quindi il club è veramente un club esclusivo. Andate, vi lascio i link, a scoprire quali sono i vantaggi che arrivano con l'abbonarsi e fare parte del club, ma potete anche offrirmi un super grazie su YouTube cliccando il simbolo del cuoricino col dollaro, o è sempre attivo il link Ko-fi per offrirvi un caffè quando vi va. Ma chiaramente potete sostenere il mio lavoro anche gratuitamente interagendo con questi contenuti, lasciando una recensione o delle stelline nella piattaforma in cui ascoltate il podcast, seguendolo, condividendo l'episodio, commentando su YouTube e anche su Spotify è possibile lasciare una risposta su cosa pensate di questo episodio. Interagite, perché le interazioni fanno sì che il podcast venga proposto a più persone e quindi che più persone lo conoscano e possano decidere da soli se fa per loro oppure no. Detto questo non vi trattengo oltre perché la conversazione è veramente intensa e interessante, vi lascio all'ascolto dell'episodio e ci vediamo dopo per i saluti. Buon ascolto! Ciao Fabiana, benvenuta! Grazie, grazie per avermi invitato! Fabiana Rosa, conosciuta sui social come Azzurra.edu Kinky, io ti ho conosciuta così e ho iniziato a seguirti perché, molto banalmente, perché avevo bisogno di documentarmi, io ho bisogno di studiare, perché chiaramente io facendo consulenti occupandomi di persone autistiche adulte, incontro tantissime esperienze che sono diverse dalle mie e quindi tendo a volermi informare e a scoprire di più, anche per distinguere quando c'è bisogno di un altro professionista. Io lavoro, per esempio, sempre insieme a una psicologa o a una supervisione, ma non è l'unica altra professionista a cui posso indirizzare le persone che si rivolgono a me. E in maniera particolare tu sei una sessuologa, giusto? No, in realtà no, sono una consulente sessuale, educatrice e consulente sessuale. Ok, che differenza c'è? Dunque, il sessuologo è uno psicologo o un medico che ha la specializzazione in sessuologia e può trattare i pazienti, quindi tutte le condizioni dove c'è una patologia o questioni profonde da andare a ravanare, come si dice, mentre l'educatore o l'educatrice è consulente sessuale, si occupa di insegnare educazione sessuale a vari livelli, quindi bambini, ragazzi, adulti e quant'altro, e può fare consulenze sia indirizzando le persone al professionista corretto, perché immaginati che una persona con un disturbo sessuologico spesso gira anni perché gira per professionisti sbagliati, perché comunque sono una decina di figure professionali che si occupano di sessualità. Oppure si occupa di questioni che non sono legate a condizioni patologiche, ma semplicemente a condizioni educative, per esempio. Esempio, arriva una donna anorgasmica e si fa l'anamnesi sessuologica e viene fuori che non si è mai masturbata in vita sua. Chiaramente questa è una questione educativa, non è un disturbo sessuologico franco, in cui io l'ho provate tutte, ma l'orgasmo non riesco a raggiungerlo. E allora lì a quel punto si fa, diciamo, un'anamnesi differenziale, se vogliamo, no? Quindi per capire dove è che si può andare a lavorare. E poi, per esempio, io faccio consulenze anche a coppie per calo del desiderio, persone che vogliono esplorare la sessualità kinky, perché comunque io sono specializzata in sessualità tipica, e nel mio caso specifico persone transgender, perché mi occupo di accompagnamento alla sessualità, nelle persone trans, sia prima che durante tutte le terapie mediche, chirurgiche, via dicendo. Quindi questo è il lavoro che faccio. La parte che più mi piace del mio lavoro, invece, sono i workshop di educazione sessuale per adulti. Io ho una laurea in fisioterapia, una specializzazione in riabilitazione neurocognitiva, master in sessuologia, e adesso sto prendendo il secondo in relazioni. Quindi, insomma, via. Questa puntata è pre-registrata, quindi immagino tu avrai finito l'alfabeto. Ho imparato tantissimo dei tuoi BDMSD. Oggi c'è la P. Oggi c'è la P. Ok, quindi per dare uno un'idea di quando stiamo registrando. Purtroppo forse... Però si può sempre recuperare, no? Scorrendo nel tuo profilo. Sì, sì, ci faccio tutto l'alfabeto del BDSMD. Ho imparato un sacco di cose interessanti. Sì, cerco di tirare fuori termini che di solito non si trovano. Insomma, preferisco così. Perché è chiaro che se uno si mette a scartabellare su Google, trovi un po' tutto, no? Però ci sono dei termini che trovi più frequentemente, altri che magari invece non sai bene... Cioè, sono un po' delle chicche, no? Io preferisco orientarmi su quelle quando posso. Sono la P, insomma. Adesso sono indecisa tra due. Potremmo farne una seconda edizione, no? Perché con la stessa lettera ci sono più termini. Sì, c'è di tutto, chiaramente. Non lo so se fare una seconda edizione oppure se fare un'altra cosa. Invece è tipo il dizionario delle relazioni. Vediamo. Bello. Ci piace. Metterò i tuoi link per chi non ti segue che posso seguirti e imparare nuove cose, grazie a te. Ma la cosa che mi ha spiazzato completamente, diciamo la verità, è stato scoprire la tua storia. Perché io sono andata lì e ho detto, ah, parlerò con una professionista, chiederò... faremo una di quelle puntate di fuori norma con lo specialista che ci racconta le cose, approfondiamo un termine. Ma in realtà ho scoperto che tu hai una storia personale incredibile. Allora, per chiunque la voglia scoprire, io consiglio di iniziare dal TED Talk che tu hai tenuto a Firenze, credo, no? Sì, sì, a settembre. In cui racconti la tua incredibile storia personale. Io è arrivata allo smalto per le unghie o pianto. Quello è un momento un po'... Cioè, tutte le persone che l'ascoltano in quel momento identificano... Sì, un... diciamo una pezza. Sì, quasi tutti. Quasi tutti, quella roba lì. Ti va di raccontarcelo un po' che cosa ti è successo? Perché io non so... Io... È la tua esperienza, non saprei neanche da dove iniziai. Vuoi che ti dica che mi va? Puoi dirmi non mi va, non ne parliamo. Oppure puoi dirmi non mi va, ma ne parliamo lo stesso. Esatto. Non mi va, ma ne parliamo lo stesso. Non mi va non perché io abbia problemi a raccontare. L'ho raccontato in Mondovisione, quindi, insomma, non è... È che quella parte della mia vita io l'ho chiusa con il TED. L'ho conclusa, ho chiuso sto cerchio e vabbè. Però comunque, insomma, ve la riassumo, insomma, faccio un riassunto. Nel 2019 mi sono ammalata di una malattia molto, molto rara che però non è stata riconosciuta in quanto molto rara e una malattia neurologica, quindi un'encefalite causata da un tumore dell'ovaio che però si manifesta come un disturbo psichiatrico e quindi io mi sono fatta un mese di... in psichiatria legata. Dopodiché, quando stavo per morire, hanno chiamato un medico vero, e niente, quindi sono stata operata, ho fatto un anticorpo monoclonale abbastanza impegnativo e poi ci ho messo due anni e mezzo per riprendermi. E in questi due anni e mezzo poi ho cambiato lavoro, ho cambiato vita, ho cambiato tutto della mia esistenza, quasi tutto. Ho perso un pezzo di me e ne ho recuperato un altro migliore. E nel TED io racconto di quella che è stata la mia esperienza, di come ho scelto di non far diventare quella roba lì il mio trauma, no? Ho scelto, ho scelto, diciamo, con consapevolezza di non farlo diventare il momento della vita in cui sarei rimasta bloccata. E come dico sempre, poi se la vita ci dà della merda, noi possiamo scegliere se lasciarla puzzare in casa oppure farla diventare il concime per la persona che desideriamo essere, per fiorire, insomma, no? E io ho scelto di fare questo consapevole del fatto che quando racconto la mia storia, adesso io l'ho proprio svilita in quattro parole, ovviamente, quando racconto la mia storia e la racconto per quello che è in maniera anche neutra, non per forza con così tanto pathos come si sente nel TED, no? Anche quando la racconto in maniera neutra le persone rimangono raggelate, no? Un po' mi dicono ma è possibile che possa succedere una cosa del genere? Un po' ma come hai fatto? No? Un po' io non ce l'avrei mai fatta, che poi è una cazzata perché che vuol dire non ce l'avrei mai fatta, anzi vuol dire niente. e ecco insomma alla fine io con quel TED ho voluto chiudere quella parte della mia esistenza perché ormai sono perfettamente lanciata nella seconda parte della mia vita e sono perfettamente integrata, quindi comunque non ho più quel tipo di cioè quella roba lì è solo qualcosa che mi è successo, non sono io. è qualcosa che mi è accaduto e vabbè insomma come me ne sono accadute tante altre e ho scelto di farla essere una cosa che mi è successa e non appunto un elemento identitario. Esatto, questo per me è estremamente interessante perché richiama tutto quel filone di pensiero, di distanziamento anche ora beh io mi occupo di disabilità quindi la ricondurrò a questa cosa perdonami ma mi ha richiamato tutto quell'universo di necessità di distaccarsi da una disabilità acquisita e quindi proprio come elemento identitario c'è tanto la discussione se sia meglio dire persone disabili o persone con disabilità e in generale per 16 anni della mia vita perché comunque io mi sono occupata di riabilitazione neurocognitiva dei bambini quindi io tutte le condizioni di altro che neurodiversità proprio anche insomma molto più di così me ne sono occupata io credo che le persone possano e debbano definirsi come preferiscono e che l'identità è poi una questione estrettamente personale insomma io quando dico che non ne ho fatto un elemento identitario parlo del trauma sì però è anche il trauma la questione perché chi ha una disabilità acquisita per forza di cose ha attraversato un momento di trauma ha attraversato un momento di lutto rispetto alla persona che era prima dell'incidente o del di ciò che l'ha portata diventare disabile quindi il mio era un discorso più che altro quindi era un discorso più che altro di mi sembra ora statisticamente mi sembra un termine eccessivo perché non è che io personalmente abbia condotto una ricerca statistica mi sembra che alle persone che hanno acquisito una disabilità siano più propense a cercare un distacco con il trauma che hanno attraversato diventando disabili e che quindi io ritenga assolutamente più probabile cioè giustificare che sia più probabile che le persone che hanno acquisito una disabilità preferiscano identificarsi come persona con disabilità le persone che sono nate con una disabilità è talmente connaturata al loro essere tipo me che per me non fa nessuna differenza che sia un tratto identitario perché è un difetto genetico quindi ci sono nata fa parte di me e sono sempre stata così però mi rendo assolutamente conto che chi invece deve attraversare il trauma il cambiamento e il lutto rispetto alla persona che era prima di diventare disabile preferisca porre una separazione fra sé più che fra sé la disabilità perché magari appunto si è costruito una vita nuova però con il momento in cui quel trauma quel passaggio quel momento di cambiamento che comunque non può non essere traumatico per una persona però un conto è rimanere nell'autocommiserazione nel lutto e un conto è aver fatto un percorso di emancipazione da questo lutto mettiamola così da questo trauma da questo momento della propria vita poi dipende sempre da che punto è la persona con cui parli perché magari anche con te se ci avessi parlato l'anno dopo in cui ti era successo non saresti stata come stai ora quindi siamo tutti in un percorso no assolutamente no no infatti io la disabilità sulla mia pelle l'ho attraversata però è stato come attraversare un fiume sono arrivata dall'altra parte quindi questa sicuramente è stata in parte dovuta cioè il fattore culo è innegabile perché poi il ci sono persone con la stessa con la mia stessa malattia che diciamo comunque manifestano poi una disabilità permanente comunque c'è una percentuale abbastanza alta di persone che muore quindi che non diciamo non ce la fa ci sono persone per cui se non si riesce a identificare il tumore originario che causa l'encefalite e quindi per cui questa encefalite è idiopatica poi alla fine che continuano ad avere recrudescenze della malattia con disabilità accumulate un po' come può funzionare per esempio la sclerosi multipla che va a pusse diciamo via quindi diciamo a me mi è andata delusso mi è andata delusso perché sono stata fortunata ho incontrato un neurologo che di casi come me ricordo 800 casi diagnosticati al mondo all'epoca che di casi di persone come me di donne come me ne aveva viste già due questo a 5 minuti da casa mia all'ospedale da 5 minuti da casa mia quindi io sono stata veramente molto molto fortunata lui ha scelto tra l'altro una linea terapeutica che di solito si usa come terzo livello cioè che prima di quella ce ne stanno altre due secondo me per una questione di costi e lui invece mi ha mi ha trattato direttamente con quella e io ho potuto diciamo sbangarmela diciamo ecco così poi sicuramente io ci ho messo del mio perché cioè questa è sicuramente ci ho messo del mio e insieme di fattori poi che determinano qual è la qualità di vita finale della persona io attualmente ho una qualità di vita assolutamente gratificante soddisfacente fortunatamente non ho disabilità residue quindi che dire insomma la disabilità l'ho attraversata io credo di aver di essere stata da tutti i lati della carrozzina dico sempre tutti i lati della carrozzina hanno attraversato la mia vita ci ho stata sopra ci ho stata dietro a spingere ci ho stata davanti ci ho stata di lato a fianco in tutte le salse proprio quindi ho sperimentato la disabilità da tantissimi punti di vista dal punto di vista della terapeuta dal punto di vista della paziente dal punto di vista dell'amica quindi sono veramente ho una visione un po' cioè a tutto tondo di questo tipo di condizione che in alcuni casi è identitaria in altri casi no certo esatto appunto dipende dalla storia di una persona ma anche dalla persona come dicevi tu i casi della vita ma anche il lavoro e la personalità che c'è dietro quindi sono troppi fattori da considerare per poter dire è meglio così o è meglio colà e comunque non è possibile imporlo su una persona a me incuriosisce infatti sempre la storia personale non qual è il termine che decidi per definirti ma che cosa ti porta a sceglierlo che cosa c'è dietro no perché poi il termine nella vita mi sono definita in mille modi veramente adesso onestamente ho mollato tutte le etichette perché è proprio piena rasa piena rasa sono stata anche definita in tanti modi insomma anche a livello medico perché comunque io per per anni prima che la malattia si manifestasse in in un modo così violento c'era una diciamo una manifestazione subclinica che è un po' tipica diciamo di questa malattia che si manifesta come un disturbo bipolare quindi comunque io ho avuto anche quell'etichetta quindi insomma ci hanno avuto veramente di etichette tante tante adesso proprio mi scivono addosso sì vabbè insomma funziona come funziona va bene così ecco ok a me ha colpito molto sotto il video del tuo TED che ci fosse uno psichiatra che commentasse mentre guardavo il video cioè lui mentre guardava il video dall'inizio è iniziata a diagnosticarti certo grazie sì sì questo disturbo bipolare e poi mano a mano che ti sentiva parlare iniziava a riflettere a mettere in discussione le proprie idee e conclude il messaggio dicendo che effettivamente gli psichiatri non hanno una formazione in neurologia che gli permetta di distinguere e che quindi da quel momento in poi avrebbe tenuto conto cioè metteva l'accento sul fatto che bisogna bisogna tenere conto che potrebbe essere qualcos'altro cioè che i sintomi potrebbero apparire come sintomi psichiatrici ma la causa potrebbe essere qualcos'altro e il fatto che l'abbia scritto sotto il tuo TED Talk mi ha colpito cioè ok secondo me cioè diciamo è chiaro che noi il cervello funziona così poi no? tende a diciamo a interpretare il mondo in due modalità la similitudine e la categorizzazione alla fine no? cioè insomma proprio grossolanamente queste due modalità sono le modalità più immediate più semplici questo che cos'è? non lo so però assomiglia a quest'altro questo che cos'è? lo posso infilare in questo cassetto noi funzioniamo così quindi è chiaro che con se si il nostro anche il nostro lavoro e quello che siamo sono le lenti con cui noi guardiamo il mondo quindi è chiaro che se io ho delle lenti rosa vedo tutto rosa se ho delle lenti gialle vedo tutto giallo e via dicendo quindi chiaramente è chiaro se io faccio lo psichiatra e vedo una psicosi la prima cosa che mi viene in mente è un disturbo psichiatrico no? quindi ci sta non è che cioè non è che non è giustificabile non è comprensibile ok? il problema è lo dico anche nel TED quando in medicina quando senti il rumore dei zoccoli pensi ai cavalli no? e però se c'è una zebra davanti cioè intanto la zebra muore quindi il poter pensare un po' outside of the box come c'è scritto pure qui nel qui ecco secondo me è una qualità no? senza voler tutti i dottor house per carità però quando magari cioè un dubbio magari a qualcuno dovrebbe venire ogni tanto insomma almeno un dubbio una domanda poi non è detto che sia no? però magari escludiamolo comunque da quando diciamo è successa a me questa cosa so per esempio io ho avuto una cliente che mi ha raccontato che in Emilia Romagna stavano mettendo su un progetto che si chiamava progetto Flame dove stavano aprendo un ambulatorio questa che poi io sono andata pure a cercarlo nel tempo ma non ho ancora trovato niente però era ancora in fase progettuale questo laboratorio praticamente questo ambulatorio scusatemi accoglieva i pazienti psichiatrici a esordio così esplosivo no? per fare la diagnosi differenziale con le condizioni invece neurologiche come la mia per esempio perché non c'è solo la mia encefalite mi pare adesso credo siano sei sei tipi di encefalite autoimmune diciamo che ma si manifestano con questo tipo di esordio quindi poi c'è stato il film comunque che sta su Netflix che si chiama Brain on Fire che racconta esattamente diciamo la mia malattia è la storia di una di questa ragazza che faceva la giornalista che la storia è vera viene dal libro che faceva la giornalista che ha manifestato appunto questa malattia e la storia si chiama il mio mese di follia cioè perché anche lei è uguale pari pari la maggior parte delle persone che diciamo con la malattia che ho avuto io almeno un mese in psichiatria se lo fanno del basso almeno no? poi chiaramente dove ci sono luoghi dove la sanità non è pubblica in America per esempio no? negli USA comunque è ancora più difficile perché per poter accedere ad indagini per esempio strumentali di secondo livello no? quindi che ne so una rachicentesi che è quella che ti fa la diagnosi perché alla risonanza non si vede niente a meno che non c'hai già lesioni devi avere un certo tipo di assicurazione e quindi chiaramente se non c'è se non c'è quel tipo di assicurazione tu non puoi accedere ad una diagnosi corretta e quindi lì dentro al centro psichiatrico c'è resti la persona che ha identificato il tipo di encefalite autoimmune che io ho avuto che si chiama Josef Dalmaus se non mi sbaglio se non me ne erro il nome diciamo non so apre una pronuncia lui sostiene che in realtà nei centri psichiatrici sia pieno di persone non diagnosticate e che in linea teorica potevano essere curate o potrebbero essere curate ma che chiaramente nessuno si mette a testarle ma chi le testa sta gente cioè noi sulla malattia mentale e comunque sul sui pazienti psichiatrici proprio c'è uno stigma talmente alto che noi li mettiamo dentro i sotterranei ma chi cazzo li vuole vedere cioè proprio buttati là dentro perché comunque la follia è proprio l'impazzire è la paura è più più forte della paura della morte quello di perdere quella di perdere il senno e quindi noi quella roba là non la vogliamo vedere la releghiamo in spazi chiusi dove il nostro sguardo non si posa chiaramente in una condizione di questo tipo ma chi è che gli viene di vabbè facciamo così testiamo a tappeto tutti quanti facciamo la raggiuntese a tutti ma chi proprio cioè la feccia della feccia proprio lasciamola là dove sta chiusa capito non sappiamo che faccia li leghiamo quindi è un po' il un fallimento diciamo no io lo considero come tale ma soprattutto considero un fallimento il fatto che la gran parte della medicina che si rivolge alla malattia mentale non voglio dire tutta però la gran parte non ammette banalmente il fatto che facciamo questo perché non sappiamo fare altro non abbiamo nessuno strumento cioè non ce li abbiamo gli strumenti per poter trattare queste persone in maniera diversa io comunque se è stato un mese nessuno mi ha fatto una doccia sì questa è una una cosa che mi ha colpito molto poi io credo che colpisca chiunque proprio perché come dici tu la paura della follia ci accomuna un po' tutti e in particolare le nostre società considerate moderne non la società contemporanea proprio perché l'ha allontanata dalla visione e quindi questo non fa altro che aumentare ancora di più la paura perché non la vediamo certo poi tra l'altro è molto divertente perché nella mia vita ci sono dei temi che tornano io la tesina dell'esame di maturità la feci sulla follia la feci sulla figura cioè nella mia vita è così è incredibile proprio sono cose che ricicciano fuori capito fai ma come no ma che senso la feci sulla follia quindi sulla sul fatto che la perdita del senno controllata per esempio fosse ricercata per esempio per tutti quanti gli scritti di Castaneda per esempio questo stava sempre fatto stava sempre completamente e comunque anche tutti diciamo tutte le c'è tutta una una parte di scrittori artisti eccetera che ricercavano quella condizione di allucina quella condizione allucinatoria quindi è incredibile come abbiamo romanticizzato quella e invece quella reale poi invece ce l'abbiamo proprio relegata nel nei bassi fondi proprio no quindi non vogliamo proprio vederla però che bello ci facciamo tutti quanti grandi dissertazioni su sui sui per esempio per esempio di Baudelaire io ho capito no comunque una cosa interessante allora il mio corpo è cambiato molto e negli anni no tra farmaci smettere i farmaci pandemie cose eccetera alla fine io sono approdata al bypass gastrico voi dite ma che c'entra sta cosa ed è incredibile no perché io sono stata percepita come tante cose sono stata percepita come matta e sono stata percepita come grassa ok io ti dico una cosa che sembra incredibile eppure è così i matti li trattano male i grassi li trattano peggio e lo dico io che mi sono fatta un mese legata a quattro bastoni quindi dentro al letto e ti posso assicurare che la percezione diciamo della malattia mentale no è terrificante piena di stigma però in fondo porelli ok non è colpa loro non li voglio vedere però porelli mentre invece per esempio sulle persone grasse pesa la morale no il giudizio morale perché in fondo se sei grasso è colpa tua quindi è stato il mio è stato un viaggio incredibile no negli stereotipi io che sono sempre stata una persona tra l'altro completamente fuori dagli stereotipi sempre quindi ho vissuto una vita tutta fuori dalle righe tutta completamente fuori dalle aspettative sociali no e ho fatto questo viaggio incredibile nel nella percezione che gli altri avevano di me una percezione che nel tempo negli anni è cambiata no e in cui mi sono state appiuppate etichette da tutte le parti anche per esempio il fatto che io abbia scelto questo lavoro no quindi comunque faccio una consulente sessuale sono una donna quindi insomma no che ne so non ho figli non mi sono sposata sono comunque una persona kinky e lo sono sempre stata apertamente quindi io play party feste no cioè comunque ho frequentato la comunità bdsm per una vita quindi ecco la mia vita è stata tutta un susseguirsi di di fuori norma no in cui in cui mi sono state appiccicati adesivi addosso no e che io ho attraversato diciamo giudizi che io ho attraversato così osservando quello che le altre persone si aspettavano da me e quello che pensavano che io fossi dandomi le etichette che pensavano che al momento fossero giuste e quindi è bipolare è matta è disabile è grassa è kinky poi tra l'altro non è sposata quindi sarà lesbica o quindi sarà no c'è qualche problema no cioè non c'ha figli quindi egoista cioè tutta no tutta una serie di cose che il mio corpo ha raccontato agli altri senza senza volerlo la mia vita è stata un viaggio bellissimo super interessante che io ho osservato con i miei occhi col mio sguardo no col mio sguardo invece neutro perché il mio sguardo su di me invece era neutro quindi io non mi sono per fortuna questo ringrazio mamma e papà che diciamo hanno mi hanno sempre diciamo non hanno mai tentato di appiopparmi le loro aspettative su di me cioè vabbè un pochino ci hanno provato però poi ci sono riusciti e quindi a posto così no quindi e questa questa diciamo questo un po' sicuramente poi personalità chiaramente io che ho attraversato questa vita fino adesso insomma sbattendomene sostanzialmente di quello che gli altri sospettavano da me e rimanendo sempre un po' confusa rispetto a quello che gli altri raccontavano di me cioè mi raccontavano di me del mio corpo del mio cervello di come funzionavo della mia vita della mia sessualità delle mie scelte e io sono veramente molto grata all'esistenza di avermi fatto vivere finora questa vita così perché la mia è stata veramente una vita interessante concordo io vabbè ci sono tanti punti in cui la tua esperienza risuona con le mie esperienze che chiaramente sono diverse sono le mie sono altre esperienze quest'ultima cosa che hai detto mi fa venire in mente un periodo in cui io dicevo io sono l'esperimento sociale di me stessa perché era veramente guardare gli altri guardare me riflessa negli occhi degli altri era super interessante per studiare gli altri cioè per vedere i loro i loro meccanismi di attribuzione di significato che io non avrei immaginato e forse non sarebbero venuti fuori se non si fossero trovati in confronto con me e non avessero potuto esplicitarli in qualche modo quindi io osservavo veramente le persone intorno a me estremamente affascinata dal come 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 hai costruito questa idea che magari spesso non c'entrava niente con l'idea che io avevo di me eh ma torniamo sempre al discorso no cioè noi categorie e similitudini non è che cioè queste tutti funzioniamo così cioè non è che gli altri funzionano così e invece noi no funzioniamo tutti così perché è il cervello che impara così sostanzialmente no insomma poi c'è anche altri meccanismi però questi sono quelli più preponderanti sono quelli più diciamo anche più più a maggior a minor di spendio energetico cioè è la cosa più facile certo questo però è anche il motivo per cui io personalmente ad un certo punto ho detto vabbè sai con tutte queste etichette facciamo che io me ne scelgo un paio e queste me ne sono scelte io perché tanto gli altri non è che smetteranno di darmele me le daranno lo stesso però chiaramente questa è la mia esperienza torniamo lì io ho scelto invece dei ruoli scusa ho scelto invece dei ruoli più che delle etichette ha senso in quelli magari mi riconosco no capito cioè cosa un consulente sessuale un ruolo chiaramente ora è un elemento identitario beh non lo so forse non è detto però anche no visto che nella vita sono stata cioè non lo so sono stata dottoressa no per dire quindi insomma sono stata tante cose probabilmente il lavoro che mi sono scelta è semplicemente un'espressione di me potrei sceglierne un'altra un domani etichette mobili si si preferisco identificarmi nei ruoli piuttosto che nelle etichette perché le etichette identitarie diciamo mi stanno rimangono un po' più perché nel senso poi va bene mi vuoi etichettare fallo cioè te lo lascio anche te la lascio anche questa cosa non ti devo neanche convincere perché non è il mio compito giusto cioè ha senso questa cosa invece che hai detto sulle persone grasse è molto vera mi ha colpito molto perché un'altra ospite ha parlato di della colpa riferita proprio alle persone grasse l'attribuzione di colpa di responsabilità comunque quando ti vai a curare no perché l'obesità la malattia la salute eccetera vabbè io mi vado a curare mentre ti curano devi comunque spiare cioè io appena arrivata in ospedale per farmi il bypass gastrico l'infermiera entra ridendo con un'altra infermiera e dice toh un'altra obesa stavo a otto oggi è bariatria che t'aspettavi che pensavi di trovare i ciechi i sordi cioè fammi capire i zoppi non lo so dimmi te per dire no ecco quando un'altra infermiera mi ha chiesto ma tu perché tu ovviamente quanto pesi glielo dissi ero appena operata mi doveva medicare pensavo che le servisse per un farmaco per una quantità di farmaco io le ho detto il peso però certo è proprio tanto eh eh certo perché io mi sono fatta il bypass gastrico perché c'ho un cazzo da fare ma che commento è e quando le ho detto ma che commento mi fa lei scusi eh ma come si permette ma che commento è è tanto è bariatria che cosa cioè certo mi sono appena operata che razza di commento è come si permette mi faccia la medicazione che è quello che deve fare e lei mi piccata mi rispose oh ma che ho detto guardi che io guarda che io l'ho detto lo dico sempre a tutte eh dico eh il fatto che nessuno risponda non significa che vada bene glielo dico io anche nel momento in cui ti vai a curare comunque io ti devo far sentire una merda sempre a prescindere per forza quando sono andata alla prima visita per dire io sono andata alla prima visita a quel chirurgo primario a cui non posso dire niente sul piano chirurgico perché io ho avuto un decorso postoperatorio perfetto al contrario di un sacco di altra gente io non ho mezzo disturbo sto benissimo mi sento un grillo digerisco pure i sassi proprio zero problemi anzi sto meglio di prima al di là della perdita di peso ho risolto dei problemi di salute cioè capito intestino irritabile c'è un sacco di roba che ti dici ma quando sono andata lì il medico mi fa io mi sono seduta e mi fa lei non fa movimento vero e io ho fatto ma veramente io mi alleno con una personal trainer tre volte a settimana ci ho pesi ah come per dire bah mica cecredo io tra l'altro mi sono operata apposta per allenarmi di più perché il mio corpo mi impicciava e quindi mi sono operata quindi proprio cioè sicuriamoci no e quando poi sono tornata al controllo controllo in cui non c'era neanche la bilancia non so se rendo c'è un controllo bariatrico senza bilancia non lo so che cosa a occhio vabbè comunque non si ricordava di me non si ricordava neanche di avermi operato ovviamente ma vabbè è un chirurgo cioè e quando mi ha fatto questa visita che non era una visita tre minuti mi fa vabbè dieta proteica e poi vado a camminare perché ovviamente stai cicciona al massimo può camminare io con la kettleball da 16 chili capito cioè quindi è proprio un pregiudizio terribile anche quando ti vai a curare da persone che ci dovrebbero occupare della tua salute tutta cioè non solamente del dimagrimento poi se sono professionisti della salute salute è tutto anche lì comunque c'è il peso del giudizio c'è il peso della colpa io ho dovuto mendicare gli antidolorifici perché mentre i miei amici operati di appendicite con la pompetta di morfina io ho dovuto mendicare il Thoradol perché ma non posso sopportare perché chiaramente sei una cicciona e quindi noi ti facciamo la grazia di operarti ti facciamo questo piacere però devi soffrire perché comunque la colpa ce l'hai tu non c'è questi due spazi lo spazio medico occupato dalle persone grasse e lo spazio medico occupato dalle persone con malattia mentale che io ho abitato in due momenti diversi della mia vita sono due spazi in cui manca del tutto il rispetto del dolore della sofferenza perché quella non è la vera sofferenza l'unica sofferenza è quella del che ne so reparto oncologico dove giustamente no abbiamo tutto una sacralità del dolore del rispetto del paziente si parla piano si fa cioè nel senso ci si occupa di tutte le i comfort è chiaro poi con i vari a seconda del posto dove vai perché ci sono pure delle parti oncologiche che fanno schifo ci mancherebbe però per dire quello è considerato un dolore a cui assegnare un certo tipo di mood no in generale cioè io mi approccio a quel dolore in punta dei piedi come è giusto che sia sì infatti il problema non è che è sbagliato quello il problema che dovrebbe essere così anche per tutto il resto invece questi altri due spazi sono spazi in cui non si entra in punta dei piedi si entra urlando a spallate ovviamente e poi se capita ho pure una caracca visto che ci stiamo bella pizza cioè sono spazi dove il dolore la sofferenza no quello che 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 comporta quella condizione no non sono assolutamente considerati è solamente che sono due tipi di corpo no in un caso il corpo in un caso la mente ma alla fine è sempre quello no comunque sono corpi che noi non vogliamo vedere perché sono corpi non solo divergenti sono corpi dissidenti perché occupano uno spazio in modo non normato quindi noi li vogliamo li vogliamo da un'altra parte quindi i ciccioni non li vogliamo vedere i matti non li vogliamo vedere punto e basta quindi e quando li vediamo comunque cioè qualcosa gli dobbiamo cioè il carico da 90 ce lo dobbiamo mettere quindi se sei matto te lego e non perché ammetto non so cos'altro fare ma perché si fa così perché te la devi pagare il fatto che sei cicciona capito e io questi spazi li ho li ho occupati li ho occupati e mi hanno veramente consentito di avere uno sguardo proprio dall'interno no che è stato interessante è come se le persone si sfogassero come se fosse l'oggetto punch ball come se fosse l'oggetto su cui sfogare la rabbia repressa l'insoddisfazione la frustrazione io come te Simone io vedo questo è assolutamente così quello è un trigger incredibile proprio le persone tirano fuori la peggior bonnezza proprio lo schifo proprio che tu dici ma tutto a posto raga tutto ok perché non sta mi sembra che non stiamo andando benissimo cioè non lo so però si capisco perfettamente che cosa di che cosa parli cioè è una roba che io osservo no e ma anche banalmente ti faccio questo esempio quando io sono uscita dall'ospedale con che ero magra ma magra davvero perché chiaramente ma perché perché per due mesi mi hanno nutrito con la endovena poi sono stata immobilizzata quindi avevo perso tutta la massa muscolare cioè quindi sono uscita e io completamente prosciugata con mezzo cervello bruciato e io volevo diciamo cioè cercavo io per un anno ho cercato ogni ogni modo per togliermi la vita cioè nel senso io avevo tra le notifiche di google come suicidarsi cioè nel senso mi arrivano le notizie capito per un anno così eppure quello che le persone che avevo vicino anche quelle che c'erano state lì vicino a me dentro quel letto parte di queste persone mi dicevano ma lo vedi che stai bene lo vedi che adesso stai benissimo sei magra e io lì è stato veramente un momento molto critico perché come ti posso dire non ero vista non mi sentivo vista cioè proprio della serie ma mi vedete ma cosa state guardando capito quindi quello fu un momento proprio veramente terribile per me quello forse forse fu una dei momenti più brutti dove la mia sofferenza completamente invisibile invisibile quello che passava però siccome ero magra allora stavo bene questo lo capisco molto bene io sono molto bella ogni volta che sono disabile sono anche molto bella ogni volta che sono autistica sono anche molto bella però sei così bella ma va a fare ok quindi manco grazie che cazzo gli dice a uno che ti dice così ok non puoi dire che commento è che cosa dice cioè mi sembra che dica più di te che di me sta roba infatti sì quello che ti dicevano per me gli altri sono sempre stati molto interessanti perché come ti viene io ho capito che questa puntata fosse sul BDSM cioè mi sa che avevo capito male sì sei entrata in questa puntata così però effettivamente ora io l'ho detto mi sono infilata nel discorso un paio di volte per dire questa per dire questa cosa la tua esperienza personale risuona con alcune mie esperienze personali per cui mi ha colpito moltissimo e certo magari ci sono persone che possono rimanere tanto colpite dal dalla tua seconda nascita dalla tua seconda quella che tu descrivi come seconda nascita il sapersi rinvertare il cambiare carriera lasciare andare perché questa è anche una cosa importantissima io lo ripeto andate ad ascoltare il TED di Fabiana perché è veramente da riascoltare più di una volta è meraviglioso cioè a parte che è costruito proprio a livello di costruzione tecnica del discorso io adesso mi devo prendere gli appuntini perché è meraviglioso quel TED l'ho scritto l'ho scritto imparato in sei giorni perché io mi sono infilata all'ultimo perché dovevo sostituire una persona che non veniva più mi hanno chiamato ha fatto lo vuoi fare un TED? va bene certo io tra l'altro era una cosa che mi avevano chiesto già nel bizzarrissima sta cosa nel 2018 me l'avevano chiesta ma io poi mi sono ammalata me l'hanno chiesto per tutt'altra roba facevo tutt'altro nella vita e mi avevano chiesto un TED io mi sono ammalata e non l'ho potuto fare chiaramente e vedi che la vita poi i soliti temi che tornano me l'hanno chiesto dopo e l'ho fatto su un'altra cosa quindi per me è stato un grande momento e l'ho preparato in sei giorni perché mi hanno fatto lo vuoi fare un TED? certo come no quando? domenica sabato ma è martedì ma in che senso pensi di farcela? e ho fatto tu non mi devi io mi ricordo che io ho risposto non mi devi chiedere pensi di farcela mi devi chiedere che vestito ti metti? e così è andata fantastica tu sei lo yin del mio yan esattamente il cotto pensi di farcela? non mi devi chiedere se penso di farcela chiedemi che me metto e così è andata d'altra parte chiaramente era la mia storia la sapevo cioè dovevo solo costruirla in maniera un po' più intioccutarla un po' però era la mia storia la sapevo quindi ce la potevo fare sì però è una storia di rinascita raccontata senza contemporaneamente inspiration porn eroismo motivazionale cioè è raccontata è veramente è veramente raccontata bene come vorremmo che venissero raccontate le storie di rinascita? era proprio come volevo che fosse perché io non non volevo davvero nel piedismo e neanche appunto l'inspiration porno che a me fa proprio veramente venire il volta stomaco proprio in quasi tutte le sue forme proprio non lo sopporto quindi volevo che quello che cioè che fosse raccontato anche in maniera cruda in certi momenti perché era quello che era no? in maniera però secca cioè senza troppe poi che ci fosse proprio un messaggio potente dietro cioè non la solita il solito ah ce la possiamo fare capito oppure no perché grazie a Dio è successo no cioè insomma non lo so adesso in che però non volevo che ci fosse la lacrima in tasca cioè che la lacrima ci poteva stare perché comunque anche per me è stato molto emozionante raccontarlo in quel modo ma che non fosse una lacrima del ecco dell'inspiration porn ma che fosse un come quando non lo so senti una musica che ti squarcia no una cosa di quel tipo io volevo quel tipo di sensazione quella roba che senti che ti smuove delle cose dentro che riguardano te anche se senti qualcun altro che parla grazie Fabiana come l'hai descritto come se fosse io volevo che fosse anch'io vorrei che fosse quando io parlo ma non non so così bravo come la racconti come se fosse la cosa più semplice del mondo eh non lo so io volevo che fosse così e l'ho scritta così è la ricerca della mia vita questa io sto ancora cercando questo equilibrio eh vabbè non so tu quanti anni hai eh 44 adesso però anche io mi sono sveglia da poco eh non prima non c'ero ah ok ok siamo voi tanti io non ero così beh neanche io cioè in effetto eh perché io sempre un po' fuori sempre un po' fuori come un balcone però insomma non ero così in un altro modo diciamo sì ero fuori ma da un'altra parte diciamo parlerei con te tutto il giorno ma anche tu credo di avrei una vita eh c'è qualcosa che vorresti aggiungere qualcosa che non abbiamo detto e che pensi sia importante ma non lo so quello che vorrei che che arrivasse alle persone credo sia eh il riconoscere l'imparare a riconoscere se stessi eh come esseri unici e smettere di paragonarsi agli altri smettere di fare paragoni smettere di dirsi ma è normale questo è normale quest'altro è normale quello è normale questo ma è giusto è sbagliato cioè queste categorizzazioni che sono poco utili e cominciare a chiedersi io che cosa è che voglio io che cosa desidero io come sto eh in questa vita eh che magari non mi soddisfa che cosa ci vorrei dentro no e che cosa posso metterci cosa posso infilarci no eh e vorrei che quello che mi piacerebbe è sentire sempre meno persone che si sentono vittime dell'esistenza vittime della vita perennemente in credito come se la vita eh dovesse dargli il rimborso non può funzionare ehm quindi vorrei invece ehm ascoltare persone che sono colme di gratitudine per tutto quello che hanno avuto dall'esistenza anche per le cose brutte perché dalle cose brutte come dicevi Andrè no? eh da diamanti non nasce niente dall'età nascono i fiori bellissima con questa frase conclusiva io ti saluto e saluto chi ci ha ascoltato eh grazie davvero Fabiana grazie a voi ed eccoci giunti alla fine spero che questa puntata vi sia piaciuta fatemelo sapere con un commento vado subito a leggervi su YouTube e leggo ogni commento anche sulle piattaforme di podcast perché mi arrivano le notifiche quindi mi fa sempre molto piacere sapere che cosa ne hai pensato che cosa quindi mi fa sempre molto piacere sapere che cosa ne pensate che cosa vi ha colpito quali riflessioni vi ha suscitato insomma parliamone insieme su YouTube sulle piattaforme di podcast oppure potete trovarmi su Instagram come Emanuela Masia ti ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata fino alla fine ti ricordo il Fuori Norma Club su Patreon che puoi cercare come Fuori Norma o con il mio nome o seguendo i link in descrizione e andare a controllare i vantaggi esclusivi riservati agli abbonati del club nel frattempo io ti auguro buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana tu abbia ascoltato la puntata e non dimenticare di prenderti cura di te noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao